Tre auto coinvolte e un ferito non grave, questo è il bilancio del tamponamento a catena che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina sull'ex strada statale 17 nei pressi dell'incrocio con via Fila. A ricorrere alle cure mediche del locale pronto soccorso è stato un anziano di Pacentro alla guida di una Peugeot uscita fuori strada finendo sulla vegetazione circostante, vetro posteriore sfondato, tanta, tanta paura, ma le condizioni dell'anziano fortunatamente non destano preoccupazione. Necessario sul posto l'intervento di 118 polizia, carabinieri, da una prima ricostruzione si è appreso che la Peugeot stava svoltando in via Fila quando sarebbe stata tamponata dalle due auto, tra cui un fiorino. Una catena di scontri legata probabilmente alla segnaletica malposta, il fondo stradale reso particolarmente viscito, dalla pioggia alla polizia, il combino di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità.